allora buongiorno a tutti ragazzi e cerco di mantenere fede con un breve video un po alla promessa che avevo fatto nel video di ieri e ci riprendiamo il discorso da qui perché ho visto anche alcune domande sui messaggi dal video di ieri e anche nei precedenti video allora una cosa devo chiarirla sin dall'inizio io non sono né un esperto di opzioni né un trader di opzioni so che dietro al discorso delle opzioni c'è un argomento vasto io nella mia completa vagabondite totale quando vedo che una cosa complica le cose ho provato ad approcciarlo a un certo punto ho capito che tutto quello che la scienza dietro alle opzioni se l'applicasse invece nel leggere grafici praticamente risparmio tempo e fatica però ci sono molti broker sulle opzioni uso fondamentalmente quelli che uso molto semplicistici che sono le opzioni in vaniglia option su IG o le opzioni su Fineco quelle che sono più scambiate non è che vada ad aprire conti su broker sulle opzioni ho scelto venerdì di entrare con le opzioni perché su multi day un ingresso fatto con i future in una situazione di fine settimana dove praticamente c'è una chiusura di weekend del mercato lo vedevo un po più rischioso quindi con l'opzione so che il premio che paga il rischio che corre quindi vi ho deciso di fare quell'operazione di cui ho parlato nel video precedente e riallacciandomi al discorso del video precedente mh avevo detto che eh non è fondamentale non è proprio propriamente la cosa che ho fatto io anche se nel piano di trading c'era però eh un modo per poter fare un ingresso in anticipazione a quello che era il segnale daily dell'uncino che abbiamo visto dell'RH in appoggio sulla congestione col tentativo di uscita da questa trend line e l'ingresso nella TTE dove abbiamo questa freccia che sarebbe praticamente il punto di anticipo daily del segnale poteva essere fatto così come ho fatto io su un segnale daily di TTE l'ingresso poteva essere fatto anche in intraday entrando su un segnale ben preciso su un frame inferiore sulla base di un segnale daily allora qui eh oltre a segnali daily cerchiamo di ripilogare eh di cui abbiamo parlato nel video precedente che erano quelli del uncino di rosse RH dopo l'uno due tre daily mh quindi l'ingresso in TTE all'altezza sopra 8850 per arrivare con due terzi a chiudere alla rottura eh delle mh eh dell'uncino che era praticamente la candela di giovedì sul massimo per poi far correre un terzo con stop a pari fino a che ne avrà forza se lo vorrà fare allora in questo caso qua eh i segnali erano il test sulla congestione l'uncino per il test sulla congestione l'uncino successivo in uno due tre in più questo uncino serviva per caricare forza per andare a rompere una trenta line questi erano tre segnali in uno abbastanza canonici su quelli che sono praticamente i pattern che uso frequentemente sul quale avevo già ragionato già da tempo nei video precedenti nell'idea di vedere un segnale di inversione questo l'abbiamo già detto ed è cosa fatta però ci sono altri tipi di segnali di cui Ross parla nei suoi libri allora nel solito metodo di Ross che annuncia un determinato tipo di pattern di segnale poi non è che poi approfondisca molto gli argomenti quindi gran parte di questo discorso poi come scrive del resto anche lui va seguito con uno studio individuale da parte della persona che vuole usare quel segnale creando delle statistiche passate e capendo qual è il momento di usarlo è il momento invece di non usarlo il segnale di cui voglio parlare oggi è il segnale che viene chiamato l'ingresso intermedio allora cerchiamo di enunciare praticamente la sua la sua definizione a memoria il segnale intermedio è un segnale di rottura dei minimi o dei massimi di un gruppo di tre candele sul grafico daily queste le ultime tre candele sul grafico daily in un segnale intermedio vengono interpretati come candela unica giusto e quindi si va a cercare la rottura del massimo o del minimo del gruppo delle tre candele in questo caso noi venerdì ci ritrovavamo le candele di martedì mercoledì giovedì che fa che costruivano un massimo e un minimo quindi il segnale intermedio sarebbe stato quello della rottura del loro massimo del minimo prendendo le tre candele come un unico gruppo c'è una variante dei segnali intermedi che è quella anche della rottura di una delle tre candele dei massimi dei minimi di una delle tre candele come segnale di ingresso esempio in questo caso pensare alla rottura del minimo della candela di mezzo la terza la seconda quella di mercoledì o del suo massimo come segnali e praticamente venerdì ha fatto ambedue le cose se andiamo a vedere però io generalmente vado a seguire invece il segnale intermedio in coerenza anche con tutto il resto di cui abbiamo parlato cioè qui si parlava di un uncino di rosse long e quindi si andava a privilegiare un ingresso long e quindi come segnale intermedio si andava a prendere se voglio prendere il gruppo delle tre candele il massimo che era quello dell'uncino quindi coincideva come segnale intermedio se voglio andare a prendere il massimo di una delle tre candele la tte che era il massimo della candela di giovedì penso che sia chiaro questo discorso quindi fatto salvo che una volta che io apro questo grafico senza la candela di venerdì mi ritrovo praticamente andiamo a metterlo in maniera tale che non c'è la parte di ecco mi ritrovo in questa situazione qui dove vedo il gruppo di tre candele quindi vado a cercare o la rottura del minimo o la rottura del massimo del gruppo di tre candele in quel caso lì poi vado sull'intraday e continua ad analizzare questo tipo di regola dei segnali intermedi di cui parla Giorosso allora nel momento in cui io nell'analisi prima dell'apertura del mercato mi rendo conto che esiste una concreta possibilità che un gruppo di tre candele possa essere rotta nel massimo nel minimo la procedura che devo fare successivamente qui andiamo a ricaricare il grafico senza tutte queste indicazioni che avevamo fatto nel video precedente datemi il tempo di ricaricarlo nella maniera giusta cercando di temporeggiare il momento in cui ricarica proprio per dire che quando io realizzo un piano prima di un'apertura di mercato quindi qui si sta parlando di fare questo lavoro esclusivamente dopo l'apertura delle 15 e 30 del mercato non prima cioè non anticipare prima ritorniamo sul daily vediamo quindi io vado a cercare l'ingresso sul massimo sul minimo di queste tre candele la regola di Giorosso dice nel momento dell'apertura io vado su un intraday in questo caso andiamo sul cinque minuti vado a cercare la prima congestione che lui crea dopo l'apertura è su quella congestione entro long se si costruisce nella parte più alta del segnale quindi più vicino al massimo delle tre candele o se non la vado a prendere short se mi si costruisce nella parte più bassa del segnale in questo caso andiamo a vedere precisamente il segnale daily del gruppo di tre candele scattava lo scriviamo a 3.886 quindi questo è il segnale intermedio long a 3.886 long perché la rottura del gruppo di tre candele e il minimo invece delle tre candele era a 3.752 quindi scriviamo short a 3.752 ripetiamo la regola la regola è quello di anticipare un ingresso di rottura di un gruppo di tre candele daily quindi andare a cercare dopo l'apertura attendere dopo l'apertura la costruzione di una congestione sul time frame che scegliamo come riferimento che possa darci un'indicazione long o short a seconda della posizione del grafico in cui la va a costruire andiamo a dare le linee di modo che così le potremo vedere sulle cinque minuti quando entriamo una è questa dell'ingresso massimo e una è questa dell'ingresso minimo eccolo qua bene ora io vado a sul grafico dei cinque minuti visto venerdì allora se vado a restringere molto vedo le due linee ingresso sul minimo ingresso sul massimo giusto e vado praticamente a vedere cosa mi sta succedendo durante l'apertura in questo caso qui cosa io sono andato a pensare sono andato a pensare che secondo il mio piano di trading di cui ho parlato con tutta tutta la settimana se non le settimane precedenti del fatto che dopo in uno dei tre essere entrato long multi day cercando di trovare un segnale intra day per un ingresso long e quindi in questo caso qui l'ipotesi short in questa storia per me non esisteva avrei agito così ritornando sul daily nel caso in cui lui avesse rotto il minimo delle tre candele short in quel caso lì allora sarei entrato successivamente nell'eventualità di vedere sull'intra day un segnale ma non con un'ottica multi day perché nel piano generale multi day c'era il discorso del rimbalzo long quindi io nel mio piano di trading per come avevo sempre studiato questa situazione nelle ultime settimane avevo previsto di entrare esclusivamente multi day long perché preferivo andare over solo in posizione long e non in posizione short e quindi l'eventualità che non scattasse questo segnale long l'avevo praticamente eh ipotizzato ma in quel caso l'avrei fatto esclusivamente un intra day short eventualmente andiamo a vedere l'apertura di venerdì allora sappiamo che il massimo dell'ingresso long e quindi è qua mettiamoci una freccia per essere più sicuri nel vederlo sul video questo è il punto di ingresso l'apertura delle 9 e 30 quindi eccola qua andiamo a indicare la vertical line per vedere il punto di apertura ecco da questo momento un po' i giochi sono aperti quindi io in questo momento un po' vedo l'apertura mi rendo conto che l'apertura inizia con un long a 5 minuti quindi qual è eh la strategia la strategia e aspettare la prima congestione la prima congestione che è data da una museline bar più le quattro candele con apertura e chiusura all'interno della museline bar dopo la prima congestione mettere l'ordine d'ingresso long sulla rottura della congestione stessa avevamo già in presenza una congestione aperta praticamente prima dell'apertura ma in questo caso secondo quella che è la dinamica dei segnali questa è la congestione di preapertura questa congestione non viene presa in considerazione perché si entra esclusivamente vedete la rottura avviene durante l'apertura ma si entra esclusivamente dopo il primo sfogo di apertura ok l'apertura produce questa candela qui e tra l'altro è stato molto gentile perché non ha fatto aspettare più di tanto e lui va a costruirsi la prima congestione che con l'indicatore su mt4 costruisce evidenza subito io in questo caso la sto disegnando questa è la prima congestione a cinque minuti in apertura cioè dopo apertura quindi l'ingresso long sulla rottura massimo di questa museline bar dopo la quarta candela che definisce la congestione e quindi l'ingresso long è andiamo a vedere il prezzo è 3.827 e strategia uso sempre io entro sempre con multipli di tre size a seconda del tipo di prodotto che uso perché le mie idee è quella di chiudere sempre due terzi al primo target quindi alla prima realizzazione di guadagno generalmente uso come indicazione la volatilità nel senso se ho un ingresso a cinque minuti di anticipazione su un daily se la mia volatilità daily è 40 punti io in questo caso non vado a cercare la volatilità dei cinque punti perché questo caso qui non sto entrando long su un segnale intraday per uno scalping intraday qui sto cercando un segnale intraday per un ingresso multiday pertanto è chiaro che se non voglio essere stoppato su un terzo abbastanza rapidamente con l'ottica intraday di cinque dieci punti di volatilità da fare devo andare a ragionare su una volatilità daily una volatilità daily che andiamo a vedere per essere più precisi così abbiamo anche una strategia che adotto perché qui ricordo siamo in un ingresso multiday non siamo in un ingresso intraday l'intraday lo stiamo usando come anticipo come anticipazione per un trade over cioè multiday con la speranza che quel terzo che rimarrà in gain possa poi proseguire l'idea mia era quella di arrivare con questo è la volatilità daily vedete è una volatilità daily da novantacinque punti quindi l'idea mia era quella di arrivare al massimo ritorniamo a cinque punti che sarebbe stato il segnale di ingresso che questo qua quindi sono 385 come prezzo 3885 scusate come prezzo 3827 la volatilità 95 link la chiusura dei due terzi sarebbe a 50 60 punti è nella volatilità per cui il primo target è precisamente dove scatta il segnale intermedio che poi corrisponde al segnale di uncino daily che corrisponde alla rottura anche della seconda uscita dalla congestione daily long quindi tutto torna ecco come funzionato questo trade l'anticipazione mi ha permesso visto che qui siamo a 3886 mi ha permesso di anticipare di 60 punti praticamente l'ingresso multiday attualmente quindi sono dentro con un terzo dopo aver liquidato dei terzi mi aspettavo come ho detto nel precedente video di poterli liquidare lunedì pensavo che questa rottura la facesse più lunedì che venerdì invece è stato abbastanza deciso perché dalla dall'ingresso praticamente della congestione lui non ha più praticamente ripreso il prezzo di 3827 quindi è andato serenamente per la sua strada 3886 in questo caso ripeto aveva delle opzioni ma poteva essere tranquillamente the future ho chiuso due terzi e sono con un terzo dove le opzioni eh hanno un premio di carico tale che mi posso tranquillamente permettere anche l'azzeramento perché il gain dei due terzi mi ha dato la possibilità di andare in guadagno complessivo del premio speso per le opzioni nel caso del future avrei uno stop e loss a 3827 in pari che poi dopo andrei a rivedere eh lunedì sempre riprendendo in mano l'analisi per vedere se questo uncino produce ancora una prosecuzione o meno come gestirò questo terzo intanto questo terzo praticamente a 3912 nell'ingresso che ho fatto a 3827 a quasi 90 punti quindi la volatilità daily è stata rispettata io da lunedì inizio a mettere uno stop loss che mi garantisca un gain del almeno 50 per cento del guadagno visto perché faccio questo ragionamento perché secondo me molti trader si concentrano molto sui prezzi soldi persi laddove gli scatti uno stop loss e laddove un trader gli vada male quelli sì chiaramente è in dubbio che sono soldi persi ma secondo me i soldi peggiori che si perdono sono quelli del gain visto e mai riscosso quindi l'idea mia è sempre stata quella di dire che il vero rischio nel trading che corro è quello di vedere dei guadagni che il mercato mi sta regalando perché fondamentalmente sono microscopico a essere all'interno di un mare abitato di squali enormi e qui è lasciare sul mercato quel guadagno visto soprattutto se va oltre la volatilità o rispetto alla volatilità daily aspettando che mi vada a chiudere un terzo eh della posizione aperta stop a pari secondo me è un peccato veniale mortale e quindi questa cosa qui vada a proteggere almeno il 50 per cento del gain visto dato che non ho segnali particolari di dire devo chiudere la posizione per chi è arrivato probabilmente è solamente già iniziata la procedura di questo uncino long a questo punto qui da 3.912 a 3.827 il 50 per cento sono 40 punti a questo punto lo stop e loss lunedì praticamente lo vado a mettere a 3.870 io lo chiamo in gergo stop in profit ma è un trailing stop fondamentalmente perché così proteggo il 50 per cento del gain visto questo è un po' la procedura che adotto sempre ricordiamoci che quando faccio molto intraday che scalping tendo invece a a usare un altro tipo di eh atteggiamento che è quello che appena vedo anche dentro la volatilità cinque minuti in questo caso era una volatilità quando siamo entrati di sette punti se questo fosse stato esclusivamente un ingresso intraday senza nessun piano multiday di ingresso in questo caso su una volatilità otto punti avrei già chiuso due terze a quattro punti ma quella è una logica intraday sto facendo il mio scalpettino da cinque dieci minuti di tempo da dedicarci e quello è mentre invece in questo caso qui ripetiamo questo è stato nient'altro che dopo un'attenta analisi nell'attendere per più di una settimana un segnale idoneo quello di dire ok il venerdì è il giorno giusto c'è anche un segnale intermedio fatto dal gruppo delle tre candele precedenti che corrisponde a quello dell'uncino long che abbiamo visto nel video precedente a quel punto qui devo trovare assolutamente la congestione ed è questo uno degli utilizzi delle congestioni per iniziare questo ingresso quindi qua sta l'importanza strategica delle congestioni le congestioni possono essere utilizzate in vari modi se vado sulla congestione daily che avevamo visto precedentemente che è questa qua andiamola a riprendere la congestione daily mi dava un'informazione di supporto la congestione a cinque minuti invece mi dà un'informazione di ingresso dato che la congestione daily in una in una logica di supporto praticamente stava in questa zona qui cosa succede in questo caso che la congestione per me diventa un segnale operativo che uso per anticipare un segnale invece classico di analisi tecnica un cino o segnale intermedio ricordiamoci che questa metodologia di andare ad attendere un segnale operativo a mercato aperto prima congestione nella direzione di un ingresso multi day non viene usato solo sui segnali intermedi per esempio e in questo caso qui potremmo anche dire invece che essere un segnale intermedio delle tre candele è un uncino long e comunque sia l'ingresso in anticipazione nella giornata in cui posso pensare che ci sia questa rottura dell'uncino long e quindi una tte o una rottura addirittura del massimo dell'uncino vada ad aspettare la prima congestione in tre day in questo caso a cinque minuti e dentro dentro questa congestione potrebbe essere fatta anche a 15 minuti e con meno probabilità che un terzo al pari mi andasse a prendere o che mi facesse soffrire meno perché più vado su time frame più piccoli più ho la possibilità di entrare in un momento in cui invece c'è maggior ginnastica e quindi non come è successo venerdì che anche a cinque minuti ha dato comunque una linearità di segnale ma dove praticamente poteva succedere che su questa congestione lui facesse una 3d range e poi partisse quindi mi avrebbe dato una sofferenza in più uno può dire voglio essere più sicuro e vorrei invece che a cinque minuti che molto anticipato è molto praticamente a un time frame molto basso rispetto al daily mi vado ad aspettare e mi faccio il primo segnale long su una prima congestione a 15 minuti quindi a cinque minuti era questa però non è a 15 minuti vediamo questa è l'apertura a 15 minuti procede 15 minuti mi avrebbe dato comunque la prima congestione qua sopra quindi ci sarebbe anche il segnale a 15 minuti che l'ingresso in questa candela invece che entrare a 3827 su 15 minuti se è entrata a 3872 avrei quindi meno margini di chiusura sulla rottura del massimo ma comunque avrei una maggiore sicurezza dopo la congestione a cinque minuti anche a 15 minuti che mi dava praticamente questo ingresso e vedete che poi all'altezza della rottura del massimo fa un'altra congestione per caricare e finalmente andarla a chiudere oltre in questo senso poteva essere un ingresso a 15 minuti perché no molti sono i modi per poter operare in questa logica dei segnali intermedi quindi ieri cioè venerdì abbiamo avuto l'occasione di un segnale intermedio che corrispondeva con un uncino di rosse dopo un 123 molto 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 carino c'è anche da dire che ci sono anche dei segnali intermedi per esempio nella costruzione di questo 123 123 se io vado a prendere il giorno che vado a cercare la rottura del punto 2 giusto il segnale intermedio è il massimo delle ultime tre candele e lui è stato praticamente in questo caso molto molto liscio ora è un'esperienza un special esercizio che potete fare voi andate a prendervi il 24 ottobre 2022 su questo segnale intermedio non l'ho verificata anche perché è un'operazione che non ho fatta ma probabilmente dopo l'apertura ci ritroviamo in una congestione a 5 minuti che mi dava l'ingresso long a questo punto probabilmente vicino già al massimo e praticamente poi alla sua procedura come trade stiamo parlando vediamo se riusciamo a trovare insieme 24 ottobre andiamo a cercare il 24 ottobre prima congestione eccoci qua prima congestione dopo l'apertura l'apertura eccolo qui alle 9 e 30 il massimo probabilmente era questa parte qui della candela addirittura molto carino come apertura perché parte molto basso quindi l'apertura è stata qua andiamo a chiarire bene eccola qui questa è l'apertura aspetto la prima congestione la rottura long della prima congestione post apertura la fa subito la prima congestione il mio ingresso è long pertanto io vado a preferire il long questa è la prima congestione si apre con questa music in bar vedete questa è la music in bar della congestione allarghiamo 1 2 3 4 candele tende a rompere la prima sotto io l'ingresso long lo metto su questa rottura qua del massimo che ha fatto durante questa congestione vedo che occupa praticamente gran parte della giornata prima che mi prenda il segnale poi me lo prende questo diventa praticamente il segnale di ingresso multiday in anticipazione intraday più vedete più laborioso rispetto a quelli precedenti ma poi a certo punto sfocia addirittura il giorno dopo nella sua realizzazione si sta parlando di un ingresso anticipato su un ingresso multiday segnale multiday intermedio combinato con l'uno due tre che praticamente come mi sarei aspettato venerdì su quello che ho preso potrebbe metterci anche un giorno per dare il suo esito perché vado in una logica di overnight cioè cerco di entrare su un segnale daily anticipandolo di qualche punto su una congestione in questo caso avrebbe premiato poco questo anticipo perché la congestione era molto vicina al massimo a differenza invece di quello che è successo venerdì che invece mi ha dato mi ha regalato quei 50 punti di anticipo quindi in questo caso qui come è successo il 24 e il 25 è praticamente un ingresso telefonato che comunque era vicino come congestione a quello che era la rottura comunque daily quindi alla fine mi ritrovavo più o meno nella stessa zuppa mentre invece quello di venerdì è stato utilissimo come strategia della congestione la prima congestione a 5 minuti per entrare a 3827 invece che a 3886 ecco quindi guadagnare 60 punti ritrovarsi con un trade gratis praticamente in overnight avendo già incassato parte della volatilità almeno metà della volatilità daily prima del dovuto cioè sono un ingresso multiday ma lo sono già con i soldi in tasca e con un terzo di trade gratis che sta facendo serenamente la volatilità daily dei 90 punti richiesti di base minima e questi 50 60 punti non è nient'altro che la metà della volatilità che mi ha consentito praticamente di prendere il primo target che generalmente io uso come metà della volatilità sul time frame dove ho il segnale principale che voglio fare in questo caso daily questo tipo di procedura su segnali intermedi è un tipo di procedura che può essere fatto su tutti i mercati con una regola ben precisa il segnale intermedio si può usare anche su un grafico a un'ora e dire la rottura delle tre candele la vado anticipare a due minuti a cinque minuti io quello che consiglierei di non andare molto ad esagerare sotto questo aspetto del segnale intermedi mi andarla a prendere invece più sul daily perché perché nel daily anche se è un segnale intermedio failure eh faccio un esempio prendiamo che l'ho vista adesso queste tre candele qua mi dà un segnale intermedio failure probabilmente qui trovo una congestione a cinque minuti d'anticipo però la metà della volatilità comunque sul daily me la fa cioè mi manda a un gaine tale che a cinque minuti posso gestire che se mi ritorna indietro posso chiudere senza avere brutte sorprese perché in questa candela lo ha fatto praticamente il segnale intermedio short ma non l'ha fatto long e in questo segnale intermedio short è stato praticamente poco rimunerativo anche se poteva anticiparlo come dice la regola di rossa sulla rottura di una delle tre candele precedenti dei minimi delle tre candele precedenti però perché non vado a prendere questo segnale intermedio multi dei short perché sono in un'ottica di analisi fatta di strategia di piano di trading il fatto precedente che è importantissimo scrivere e me vengo presa anche molto per i fondelli perché lo scrivo su carta lo scrivo su carta perché nel mentre lo scrivi su carta ci ragioni perché se lo vai invece a ragionare solo mentalmente guardando un grafico con tutte le piattaforme che ci sono in campo io praticamente non sto facendo ragionamento e quella cosa me la scordo su carta me lo ritrovo che il piano di trading e quindi nel mio piano di trading che qualsiasi short e multi dei come ampiamente detto da settimane non lo prendo pertanto quindi se io ho un segnale intermedio short e multi dei non lo vado a prendere mi faccio il mio entraday classico sulle congestioni o sui segnali 1 2 3 a 5 minuti apre chiudo e non vado over quindi è andato over esclusivamente sulla rottura di un segnale intermedio long per una questione di piano di trading generale ok se il piano di trading generale mi avesse detto simo cerca di andare a trovare un'anticipazione del miglior segnale possibile multi dei short perché la tua analisi dice che è meglio andare a cercare lo short allora in quel caso lì avrei sicuramente privilegiato la rottura short della congestione a 5 minuti invece che la rottura long ma dal momento in cui io avevo deciso che questa rottura short non l'avrei mai presa e che quindi avrei guardato a cosa mi fa dopo una volta che mi dà la possibilità di vedere un 1 2 3 in un segnale quindi di base per me importantissimo di inversione a questo punto devo privilegiare esclusivamente il long e ho deciso di andare a prendere un long di ultra conferma daily che è il lucino e che coincide anche con un segnale intermedio ok questo era quanto pensavo di dover dire sul discorso dei segnali intermedi è chiaro che tutto viene da un insere di combinazioni di conoscenze grafiche quindi in questo caso non ho voluto spiegare nel video precedente il segnale intermedio ma ai tre segnali che avevamo del video precedente long e quindi un cino per uscita della congestione daily un cino per conferma di 1 2 3 e rottura della trend line di breve periodo daily aggiungiamo il quarto che è il segnale intermedio quindi un'intera combinazione di situazioni mi fa entrare serenamente nella prima congestione a 5 minuti in tra day che mi dà la possibilità di anticipare di qualche punto un ingresso che avrei dovuto comunque fare dal punto di vista daily quindi l'ingresso daily l'avrei potuto mettere al massimo di questa candela al massimo di questa candela a 5 minuti invece mi ha dato la possibilità di risparmiare come si suol dire qua qualche punto in più questo tipo di approccio può essere preso usando le congestioni può essere preso anche su tutta un'altra serie di analisi che una persona individualmente può fare cioè nel senso dire secondo me che ne so oil rimbalza long bene se oil rimbalza long sul daily mi dà la conferma se lo vedo superare quel prezzo lì vado sull'intraday aspetto l'apertura del mercato è fondamentale che questa cosa si faccia a mercato aperto perché a mercato chiuso le congestioni sono buone forse per farsi degli intraday veloci ma non sono delle conferme dal punto di vista di volumi e di atteggiamento generale del mercato di quello che è la congestione giusta da prendere per anticipare il tutto ci vuole la prima congestione fatta dopo l'apertura allora in questo caso qui lo posso fare su tutti i time frame sono scusate su tutti i mercati una volta che ho un'analisi generale è che mi dice ok cos'è questo un segnale intermedio a sé stante al di fuori di tutto quanto il discorso allora in quel caso lì vado a cercare pochi punti di guadagno però lo uso come ingresso di anticipazione perché quel giorno potrebbe farmi la rottura di quel gruppo di tre candele anche se è contraria poi all'andamento generale è invece un segnale intermedio come abbiamo visto in questo caso che entra in coerenza con tutta un'altra serie di segnali a questo punto centro con più spirito di iniziativa nel senso che i due terzi non li vado a chiudere subito appena vedo il gain perché non vado ad un segnale intermedio a sé stante senza una logica generale ma vado sul segnale intermedio che è in combinazione con tutta un'altra serie di segnali a questo punto vado a cercare la volatilità daily quindi attenzione ad usare questa regola del segnale intermedio ho visto una cosa per esempio molto carina su un segnale intermedio che potrà avere ambedue i guadagni questa candela qui che ha fatto sicuramente la volatilità short sul segnale intermedio della rottura delle candele e che poi se l'è rifatta serenamente long successivamente però in questo caso qui è un segnale anonimo perché perché questo short sapevamo che potrebbe essere sospetto perché una prima uscita quindi pericolosa e il long ancora non era in maturazione di una costruzione da un punto di vista tecnico di un'inversione quindi qui si si morde si fugge come si suol dire si usa questo segnale intermedi sapendo che le rotture possono generare un movimento più veloce su un cinque minuti entrando a cinque minuti però chiudendo velocemente due terzi mettendo lo stop a pari un terzo se il segnale intermedio è buono come è stato quello di venerdì è continua senza problemi un terzo mi va in guadagno se non è buono un terzo mi va stop a pari sono riuscito a fare la mia giornatina e la chiudo lì perché non ho altre indicazioni tecniche multiday che mi possono dire devo riprenderlo invece in questo caso avevo tutta una serie di indicazioni multiday preparate già da tempo attese già da tempo a questo punto è assolutamente questa cosa andava fatta spero che sia chiaro questo discorso dei segnali intermedi ripetendo la regola il segnale intermedio è la rottura di un minimo di un massimo di un gruppo di tre candele daily delle ultime tre candele daily o la rottura di un massimo di un minimo di una delle tre candele nel gruppo delle tre candele preferibile è la prima più sicura ma anche la seconda può essere utile che viene presa non sul grafico daily entrando sul massimo sul minimo ma cercando un'anticipazione intraday in questo caso abbiamo usato un tf cinque minuti un time frame a cinque minuti dove quella congestione viene presa long se vicina alla parte eh superiore del segnale intermedio quindi alla rottura del gruppo delle candele long o short se invece quella congestione si crea più in basso e quindi vicino alla parte short del segnale intermedio ok questo è quanto vi auguro buon proseguimento di domenica farò poi mh giorno un video raccogliendo un po' tutte le domande che mi state facendo sui commenti evito di rispondere volta a volta di modo che così in questo video qui lo troverete scritto nel titolo rispondo alle domande eh se le volete fare quindi fatele tranquillamente senza la pretesa di avere delle risposte immediate farò poi una mh un video di apposito per rispondere a tutto quello che mi viene chiesto vi ringrazio e alla prossima e buon proseguimento ciao a tutti